Vittorio Bernardo, cosa prevale? Magari il sentimento di dire peccato, potevamo andare ancora una volta prima in classifica e non ci siamo riusciti? Oppure comunque dare continuità ai risultati, restare imbattuti e comunque proseguire questo bell'inizio? Per il fatto di prima in classifica per noi non ha importanza, però aggiungere due punti era molto importante. Perché poi nel secondo tempo abbiamo avuto l'opportunità che loro sono rimasti in dieci, però non perdere secondo me in questo campionato è molto importante e diamo comunque continuità a questo campionato. Vittorio, la prossima partita è sorrento e quindi ti chiamo in causa in prima persona perché sei un ex, quindi cosa ci puoi dire? Quali saranno le difficoltà intanto della partita, l'organico che hanno a disposizione e poi questo campo molto stretto? Sì, il campo è stretto e pericoloso comunque perché è un campo proprio a due metri dal muro il fallo laterale. Poi per il resto hanno un'ottima squadra perché sono rimasti tipo Musetti, pur hanno preso Catania, Maiorino e compagni. Dico che l'attacco è molto forte e poi il resto è una buona squadra, perciò dobbiamo stare attenti perché loro in casa diciamo che giocano molto bene. Noi nei campi piccoli di solito abbiamo qualche difficoltà, però questo non deve essere un alibi, ma dobbiamo andare là per fare punti e basta. Che ricordo pensi di aver lasciato nella costiera amalfitana? Io non ricordo, spero buono, poi non lo so, diranno i tifosi o i dirigenti, però io penso di essermi impegnato sempre dal primo all'ultimo giorno che ero a Teramo, a Sorrento scusate. Perciò è il mio lavoro e mi impegnerò sempre con qualunque squadra andrò. Domenica è chiudo, hai cambiato tre partner d'attacco, Dimash, poi Casola, poi Gaeta. C'è differenza giocare con ognuno di questi tre atleti? No, vabbè, magari hanno proprio ruoli non precisi, nel senso che Dimash non è una prima punta ma è una seconda punta, Gaeta è più prima punta, però io mi trovo bene con tutti, come abbiamo sempre detto, a chi va in campo è la stessa cosa per noi. Noi diamo sempre il massimo e questo è l'importante. Grazie a tutti.